Romina Pover. Mia figlia Ilenia Carrisi ha fatto l'errore di tornare da sola a New Orleans, per quel capodanno Romina Pover torna a parlare di sua figlia Ilenia Carrisi, scomparsa a New Orleans all'inizio del gennaio del 1994 Sono passati 28 anni da quei tra tragici giorni ma la cantante non ha mai perso le speranze Ha continuato a lanciare messaggi, e soprattutto non ha mai smesso di credere che la figlia sia viva Certo, non smetto. Non smetterò mai di cercare Ilenia Romina Pover torna a parlare di sua figlia Ilenia Carrisi, scomparsa a New Orleans all'inizio del gennaio del 1994 Sono passati 28 anni da quei tra tragici giorni ma la cantante non ha mai perso le speranze, ha continuato a lanciare messaggi, e soprattutto non ha mai smesso di credere che la figlia sia viva Lo ha scritto e ripetuto più volte, sui social, mentre nelle interviste, televisive e non, è uno di quegli argomenti di cui non parla volentieri Ha fatto un'eccezione per una lunga chiacchierata con Walter Veltroni, pubblicata su 7 del Corriere della Sera, in cui ripercorre la sua infanzia La morte del padre Tiron Pover, i rapporti con la madre, l'inizio della storia con Albano e poi, per la prima volta, rivela alcuni dettagli inediti della figlia Ilenia Quando Veltroni le chiede che idea si sia fatta sulla scomparsa, la pover spiega. In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare Non è capitato solo a Ilenia, succede a tante ragazze, purtroppo La cantante rivela che l'ultima volta che sentì la figlia fu a Capodanno del 94, quando lei ha chiamato per fare gli auguri alla nonna, perché era il suo compleanno E in quella telefonata non fece presagire che ci fossero dei problemi Ma perché Ilenia si era trasferita da diverso tempo in Belize, dove viveva in una capanna sulla spiaggia? Le mancava un solo esame per laurearsi al King's College di Londra, e le avevano già offerto un posto come insegnante, per quanto era brillante la sua intelligenza Però ha scoperto un tradimento del fidanzato, ed è scappata via Non voleva più sapere niente Con me si manteneva in contatto Ogni tanto la chiamavo io, qualche volta lei Fece l'errore di tornare da sola a New Orleans, per quel Capodanno E mentre Albano, è convinto che non tornerà più, la pover non ha mai smesso di cercare Ilenia e di pensare che sia viva Di lei mi manca tutto, ammette La sua intelligenza, la sua simpatia, il suo calore Avevo 19 anni, quando lei è nata Siamo state molto vicine, sempre Era geniale, scriveva in una maniera pazzesca Scriveva poesie, racconti e raccontava favole alle piccole Era una persona che dava molto di sé agli altri, sempre